Benvenuti a Theory Talk, l'appuntamento settimanale qui ad Inferno 12, durante il quale conosceremo chiacchierando quelli che sono i protagonisti della rassegna theory. La rassegna settimanale è curata da Ubiqua, che settimanalmente porta sul palco del Kabuki quelle che sono le realtà sulla scena elettronica più nuova e interessante del panorama nazionale e internazionale. E quindi io direi di iniziare subito con i nostri primi ospiti, che sono, ma non sono, perché Armò, giusto? Esatto, non siamo lì Armò, ma siamo Armò. Siamo tornati qui ad Inferno 12 con Theory Talk, la parte diciamo chiacchierata di quella che è la rassegna theory, la rassegna che settimanalmente con cura di Ubiqua porta sul palco del Kabuki quelle che sono le realtà più nuove e interessanti del panorama elettronico nazionale e internazionale. E siamo tornati qui con i Flowers Reservoir. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.